Allora, cosa vuol dire il mito? Il mito è quell'insieme di prospettive che guidano sin dall'inizio la vita dell'uomo. Allora, questa vita dell'uomo non consiste semplicemente nel procurarsi strumenti, il violino, no, allora, attenzione, sono strumenti ideologici, il mito. Costruisce tecniche e strumenti giustamente per difendersi dalla minaccia della vita, ma questa difesa è operata all'interno dell'invenzione dell'invenzione di un senso del mondo di un senso divino del mondo da cui l'uomo si sente protetto, vedi? Ah, e c'è la protezione, difeso contro, appunto, dalla minaccia del dolore e della morte che tutti quanti avete paura. E qui non si tratti di un argomento come quello degli altri, ma di un argomento fondamentale perché in questo momento in qualche modo siamo liberati o provvisoriamente salvati dalla morte, dal dolore e speriamo che questo dolore non ritorni perché sennò la bella ragazza non passa. Questo è uno degli argomenti tra i tanti, ma non è quello tra i tanti, questo è l'argomento che più interessa e che già da sempre ha interessato i grandi filosofi, ed è la morte, il dolore e il rimedio contro la morte e contro il dolore. E si tratta quindi dunque del decisivo, del problema più importante ed è inevitabile che a un certo momento l'uomo non rimane più soddisfatto del rimedio e dice, ma io guarda e non posso toccarlo. Allora, aspettate, questo dipende dal mito. Allora, aspettate, questo dipende dal mito.